eccoci qua ragazzi bentornati sul canale conferenza stampa di garcia prima di napoli lazio finita terminata le domande alcune sono state un tantino quasi inutili ma ce ne sono altre che hanno dato degli spunti che volevo condividere con voi ovviamente fatemi sapere la vostra nei commenti iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto attivando la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti e colgo l'occasione con questo video nel voler ringraziare zedatka e losano giocatori in uscita dal napoli allora il primo a proda in lussemburgo allo swift esper credo si pronunci così lo swift esper milita a metà classifica ma dopo quattro giornate a sei punti rispetto ai 12 della capolista credo che sia un campionato dove possa crescere ancora ulteriormente zedatka e lo dobbiamo ringraziare assolutamente perché anche se un calciatore fa poche presenze nella squadra titolare è comunque un calciatore che è servito tantissimo alla crescita dell'undici titolare del napoli per la vittoria dello scudetto per far crescere calciatori che poi a livello tecnico sono nettamente superiori ma allenandosi tutti i giorni ha contribuito assolutamente al raggiungimento dello scudetto anche zedatka e poi rimarrà nella storia e nel suo cuore soprattutto ma anche nei nostri è sicuramente un calciatore del napoli scudettato losano ringraziamo il ciuchi perché perché il ciuchi ha fatto quattro anni a napoli quattro anni turbolenti sia per l'ambiente tre a tre allenatori in quattro anni ancelotti gattuso e spalletti diversi gli affaticamenti e qualche infortunio di troppo comunque losano fa 155 presenze a napoli con 30 gol e 17 assist perché molti siti danno le presenze di losano 130 presenze chi 120 bisogna calcolare tutte le coppe la serie a non bisogna calcolare solo le presenze nel campionato italiano quindi sono 155 17 assist e 30 gol diciamo quasi una media di una partita su tre dove il tuo nome risulta nel tabellino delle statistiche o per un assisto per un gol visto l'andazzo comunque societario del napoli negli ultimi quattro anni nemmeno societario a livello di allenatori e gli infortuni che ha subito il ciuchi alla fine i numeri non sono nemmeno tanto bassi se vogliamo considerarli così poi c'è anche da dire che calciatori del genere da strappo subiscono un infortunio pur stando fuori tre partite quattro partite due partite ritornare poi in campo da subito essendo produttivi è molto più difficile di un calciatore che non fa della corsa della velocità della rapidità e del dribbling le arme migliori quindi c'è anche questo da considerare io lo sanno lo ricorderò sempre per le lacrime posto scudetto per i festeggiamenti dove si è visto alla fine lo sanno quanto ci teneva ad arrivare ad un obiettivo del genere e soprattutto farlo a napoli perché poi non dobbiamo non dobbiamo etichettare i calciatori si va beh se ne va lo lo sanno prendiamo all'indstrom si assolutamente il mio punto di vista è che tecnicamente l'indstrom abbia anche qualcosa in più di lo sanno assolutamente però c'è anche da considerare che lo sanno il sanno visto nella nell'anno a psv endofen prima di comprarlo non l'abbiamo mai più rivisto a napoli mi auguro e gli auguro che torni il calciatore che è stato prima che lo compravamo noi perché era ancora più forte di quanto è stato forte a napoli perché non parliamo di un bidone si l'abbiamo pagato 50 milioni forse è troppo 45 forse è troppo assolutamente però lo sanno poteva valere quei soldi messo anche in condizione a livello di ambiente in questi quattro anni turbolento tramutinamente eccetera e a livello di posizione perché è sempre stato un calciatore che ha giocato a sinistra a napoli ha attirato diciamo la squadra sulla fascia destra quasi sempre pochissime volte schierata a sinistra gli auguriamo tutto il meglio e lo ringraziamo scudettato anche lo sanno nella memoria e nella storia del nostro napoli la conferenza di garcia allora ci sono degli spunti che sono interessanti all'inizio della conferenza per lo più perché poi alla fine si vanno a fare domande che cosa si aspetta lei mister garcia dalla sua permanenza a napoli può fare un escursus in questi tre mesi per ciò che è stato ma che domande sono è la conferenza della lazio come si aspetta la lazio cosa ha in mente di fare eccetera eccetera ovviamente quello non ti viene a esternare tutte le cose che hai in mente però inerenti alla partita inerenti a questo mercato vabbè questa è una mia opinione comunque gli spunti che che sono interessanti allora sono questi quanto teme la lazio di sardi è una squadra di qualità poi non so hanno zero punti e urgenza di punti non so cosa aspettarci ma una squadra più chiusa e dobbiamo gestire anche questa situazione e creare spazi non importa che abbiamo di fronte ma noi in primis dobbiamo gestire la gara e in questo non siamo ancora al cento per cento ma si migliora perché alcuni tornano con una preparazione più al completo e qualcuno sa di essere al cento per cento eccetera eccetera quindi anche garcia si aspetta una lazio chiusa come se l'aspettano gli stessi tifosi della lazio e forse anche io mi auguro che non ne venga fuori la stessa partita che abbiamo fatto l'anno scorso col gol di vecino al di là del gol di vecino e che perdi la partita fu una partita veramente rognosa dove il napoli è vero che tenne il pallino del gioco e una lazio attendista dietro ad aspettare comunque la di piazzare la zampata vincente però qualche occasione per buttarla dentro l'avemmo ma una partita abbastanza noiosa da vedere e io per gusto personale quando ci sono delle partite così lazio napoli inter napoli milan napoli juve napoli fiorentina napoli eccetera eccetera sono sempre uno che si aspetta quelle partite di calcio frizzante di goduria totale movimenti sovrapposizioni triangolazioni tiri grandissimi gol questo mi aspetto da una partita del genere ma mi rendo conto che poi la realtà è ben altra qualcuno ha detto che l'obot che è meno coinvolto nel gioco è una scelta io il passato non lo conosco non so se è diverso io faccio il mio calcio una squadra che dipende da un solo giocatore che sia attaccante o play è una squadra in pericolo perché basta chiudere il tuo punto forte sei in difficoltà domanda che si rifà al video che ho fatto ieri sul cosa cambia con l'acquisto di l'instrom il napoli sta prendendo appreso calciatori che prediligono il centro del campo piuttosto che la fascia caiuste e l'instrom sono altrettanto forti sulle fasce però nascono comunque l'instrom centrosinistra caiuste addirittura le maggiori presenze le ha fatte a centrocampo vice l'obot o più avanti detto questo è proprio un uno degli snoti principali secondo me dell'annata del napoli perché il napoli l'anno scorso le poche volte che è stato messo in difficoltà è stato o per per un turnover scelerato in coppa italia con l'agrebonese partita che ricordo ancora con rammarico ma fa poco testo perché non avevi l'undici titolare nell'undici titolare lo mettevi in difficoltà se si creava una cabbia attorno all'obot ecco perché il napoli secondo me potrebbe avviarsi verso il doppio regista avendo tantissimi calciatori a centrocampo lo stesso caiuste lo può fare forse anche anche anch'issà caiuste caiuste anch'issà caiuste lo bottica poi si vedrà se si va verso questa direzione chi saranno i calciatori però è appunto una soluzione da dover trovare perché sappiamo tutti che l'anno scorso se il napoli veniva attaccato dalla squadra avversaria e veniva creata una cabbia di due calciatori sulla bottina facevamo avevamo difficoltà nel costruire il gioco e portare ovviamente un'offensiva costante nella metà campo avversaria quindi giusto giusta la domanda e soddisfacente anche la risposta del mister vediamo l'altra domanda che collocazione all'instrom per me può giocare su tutti i ruoli non solo in attacco sugli esterni ma anche insieme ad un centravanti è veloce a senso del gol è una risorsa interessante come lo sanno gioca sugli entrambi gli esterni l'instrom ne abbiamo parlato ieri per me calciatore completo di livello di altissimo livello che può diventare un calciatore di livello assoluto così come sarebbe potuto essere l'acquisto o prendere cabri vega calciatori del genere che hanno tutto giovane ancora per poter migliorare l'uno ha scelto i soldi e i cammelli fatti suoi l'altro è venuto nella squadra campione d'italia e aspettiamo le prestazioni di l'instrom il giudizio sull'instrom garcia dice anche che ci vuole comunque un po di tempo andrà in panchina non partirà titolare ma forse poi bisogna vedere come si mette la partita potrebbe anche entrare a la partita in corso contro la lazio ha spesso battuto sarri e garcia dice le partite non si giocano tra noi allenatori è una sfida tra squadre sei su sei punti su sei è buono ma nove su nove sarebbe ancora meglio sul mercato e sul girone di champions rispondo poi parliamo solo di napoli lazio ha risposto comunque garcia anche un piccolo conto aperto con il real madrid nel 2015 2016 aveva qualificato la roma il sorteggio diceva real ma non gli è stato possibile sfidarla quindi noi l'abbiamo sfidata già tempo fa perdendole tutte e due quindi noi le abbiamo perse garcia si deve togliere questo sassolino dalla scarpa bene così c'è anche area di una sorta di piccola vendetta ce la dobbiamo giocare a viso aperto e senza paura di nessuno assolutamente speriamo che domani sia una partita discretamente bella parlo soprattutto dal lato della lazio perché il napoli sa essere bello sa assolutamente cosa deve fare speriamo di non trovare un altro pullman davanti alla porta eppure se troviamo il pullman davanti alla porta è un giusto esame come ha detto garcia per vedere come siamo messi contro squadre che si vengono a chiudere perché non sarà nella prima e nell'ultima partita durante l'anno nella quale le squadre avversarie ci vengono ad affrontare in questo modo ci verranno ad affrontare in questo modo stiamo comunque tanto per scontato che sarri si venga a chiudere poi se sarri viene e viene a esprimere un po di sarrismo ben venga perché allora vedremo in quel caso una partita frizzante e che ti che ti mantiene attaccato allo schermo per tutti i 90 100 minuti della gara visto questi recuperi lunghi che stanno comunque dando a fine dei match questo era quanto fatemi sapere cosa ne pensate ragazzi sempre forza napoli ci vediamo nel prossimo video ciao